Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming, in questo video voglio parlarvi di Twitch Prime il quale mette a disposizione ogni mese tantissimi giochi gratis da riscattare e da, tra virgolette, collezionare perché poi una volta riscattati resteranno per sempre nella vostra libreria, un po' come avviene con Steam, Epic Games ed altri servizi di cui vi parlerò prossimamente come fare per avere i giochi gratis da Twitch Prime e tenerli per sempre nel computer, da dove si scaricano, come si installano, come si riscattano, quanto costa il servizio insomma tutte queste domande troveranno risposte in questo video allora, la prima cosa da fare è quella di abbonarsi a Twitch Prime ora, ci sono due modi, o ci si abbona, normalmente, e il costo varia qui dice 30 giorni a 3,99 euro al mese, varia ovviamente in base al periodo di tempo oppure, se avete Amazon Prime, e oggi giorno chi non ce l'ha però, se avete Amazon Prime, potete regarvi qui e associare l'account di Amazon Prime a quello di Twitch in questo modo avrete Twitch Prime, tra virgolette, gratis quindi, andando su questo sito, che vi riporto poi nella descrizione ed effettuando l'accesso, cliccando qui e compilando i vari dati con il vostro account Amazon associerete l'account Amazon a quello di Twitch in questo modo avrete Twitch Prime gratis quindi potete usufruire poi di tutte le agevolazioni che Twitch ha da offrire tra cui, appunto, i giochi gratis una volta fatto questo, andate sul vostro canale Twitch cliccate qui, sulla corona cliccate su, vai alla pagina delle ricompense di Twitch Prime con la premessa che questa cosa va fatta una sola volta perché poi i giochi li riscattate direttamente dal client quindi scendete verso il basso e cliccate su scarica e gioca quindi scegliete uno a caso, è indifferente per poter scaricare questo client che è quello di Amazon Games quindi una volta che l'avete installato avete fatto l'accesso con il vostro account vi ritroverete tutti i vostri giochi quindi potete riscattare nuovi giochi ogni mese installarli ed avere la vostra libreria personale come vedete i titoli sono veramente tanti non ci sono solo giochetti ma ci sono giochi davvero che meritano la vostra attenzione come Darksiders e tanti e tanti altri quindi diciamo, ogni mese se avete associato l'account di Amazon Prime a quello di Twitch Prime avete installato questo client e avete effettuato l'accesso con i vostri dati potete riscattare, installare e giocare tantissimi giochi se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento